meraviglioso ok andiamo 3 2 1 vamonos or dunque amici del movie bar benvenuti bentornati in questa nuova puntata ho il ma perché sono in tema con la persona che arriverà oggi perché ho voglia di parlare di movimento e vi leggo semplicemente dei numeri che riportano vengono sono riportati sul suo sito signori forse non sono nemmeno aggiornati e allora 78 mila chilometri percorsi 67 paesi attraversati aspetta aspetta che continua perché non è finita 1630 giorni in viaggio e io vado subito al dunque perché ho voglia di presentarvi ladies aspetta che sposto qui and gentlemen dino lanzaretti direttamente al movie bar ciao dino benvenuto benvenuto ogni ogni volta che leggo quel numero lì dei chilometri dico aspetta no ho sbagliato secondo me ma e se me sono anche cresciuti vero ma sì poi quelli sono solo i chilometri fatti in viaggio non sono i chilometri che faccio in bicicletta ecco ecco e ma quindi il detto adesso che hai la bici pedala per te vale tutto vero giusto porca porca miseria dino allora guarda intanto grazie infinite benvenuto al movie bar è un piacerissimo avere una una persona come te e ti dico guarda e ci tengo sempre a dire il perché all'inizio della puntata esiste il movie bar e perché mi fa piacere avere persone come te perché persone come te sono quelle a cui noi vogliamo dar voce ma anche solo per raccontarsi e perché qualcuno guardando questo video possa dire ma vedi che cosa ha fatto dino di così figo cioè aveva un obiettivo avuto un sogno aveva qualche cosa da raggiungere che oltre ai paesi era anche appunto degli obiettivi delle sfide e se le andate a prendere macinando chilometri con fatica sudore quant'altro e ce l'ha fatta è il sei un pochettino riassunto del movie bar in qualche modo c'è nel senso fare quello che piace andarsela a prendere in tutti i modi quindi sono veramente veramente felice di di averti qui e poterci poterci fare una chiacchierata assieme e dino come sempre io appunto in apertura del movie bar la prima domanda che che ti voglio fare che voglio che faccio a tutti è quando è che hai capito che pedalare comunque viaggiare e raccontare i tuoi viaggi sarebbe stata la tua vita in in toto ma guarda è stato un po graduale prima ho imparato che la bicicletta mi era congeniale quindi parecchi anni fa che adoravo già viaggiare mi stavo annoiando dei pullman delle mete turistiche e per sbaglio sono caduto su una bicicletta io non c'era ne ho manco una bicicletta a casa sta regalata una bici a 50 euro ok e ho detto proviamo a vedere se si può ancora viaggiare con questo cancello il nome vero della bici è ad oggi ancora cancello e lì ho scoperto che viaggiare mi era congeniale avevo provato a fare l'alpinista avevo provato a fare robe quelli che fanno i fighi ma si venivano mentre viaggiare con la bici ho detto yeah mi vien bene poi da lì è stato un divenire poi vai più lontano essere più lontano versano più su esempio al caldo poi vai san più al freddo e e poi ti rendi conto che c'è delle persone che dicono ma com'è che hai fatto ora ti chiamano vogliono imparare poi se la bicicletta attivamente sta avendo un esplua meraviglioso è vero è vero e alla fine la gente la gente ha cominciato a dirmi ascolta guarda non è che magari verresti con me mi accompagni e quindi poi da lì ho detto ma perché non lo facciamo veramente in maniera seria qualcosa ho imparato tutti questi anni in bici e adesso sono diventato guida e racconto le mie storie porto la gente in giro in posti belli è stato un processo lungo quasi 15 anni nel frattempo certo i lavori del mondo certo e e quindi quando quando da quanto più o meno di non tu sei hai hai fatto diventare quello che comunque era un lavoro su di te quindi il discorso del viaggiare dell'andare in giro un lavoro per gli altri dopo da quant'è che che fai quindi porti in giro le persone nel mondo sono due anni che che ho fatto di questa passione un lavoro chiaramente l'anno che sta per finire perfetto dell'altro perché lo sappiamo tutti è un anno alla fine l'anno che verrà certo sul pezzo è chiaro ho disegnato dei bellissimi tour e spero di passare almeno possibile da casa bravo e dino guarda appunto tu giustamente prima mi dicevi prima lo facevo io quindi nel senso ho viaggiato ho girato tanto e ho guardato sbirciato i suoi i tuoi social comunque hai sempre raccontato anche tanto di quelli che che erano i tuoi viaggi e quello che mi piacerebbe domandarti è in in un mondo come quello dove adesso diciamo che anche instagram è diventato un po un diario di bordo di tante persone tante si sono avvicinate al mondo del dei vlog delle foto del dei viaggi del viaggiare e qual è che sono secondo te delle delle attenzioni una persona e deve avere se volesse e affrontare anche il lavoro comunque la situazione che hai fatto tu la vita che hai fatto tu quindi far diventare il viaggiare un lavoro credo che fondamentalmente una persona deve individuare ciò che veramente gli piace fare perché tutta la macchina dietro è così complicata non avrei mai immaginato è estremamente complicato per diventare di una passione un lavoro è veramente calcarsi la schiena e soprattutto la maggior parte delle volte non c'è un metodo non c'è nessuno che l'abbia fatto prima e quindi devi inventartelo quindi devi studiare un sacco io adesso sto studiando marketing e roba così cosa che cosa c'entra per attraversarli i rani in bici quindi prima cosa individuare ciò veramente ci piace poi deve essere qualcosa che che può essere condiviso perché se tu fai l'uncinetto ok poi puoi condividere qualcosa che ha a che fare con con l'uncinetto però devi renderti conto che sia una cosa che crea che crea veramente voglia negli altri io mi sono accorto raccontando per sbaglio i miei viaggi che c'era un sacco di curiosità e la stessa curiosità che ho avuto io perché magari da piccolo avevo visto l'alpinista avevo letto un libro di viaggi io che ti era venuta voglia certo e voglia poi ti dico la verità ci sono stati dei personaggi che mi hanno contattato tempo fa con una mail così sterile questi qua hanno fatto due volte a giro del mondo ha scritto libri sono diventati personaggi c'erano centinaia di milioni di follower più di me vivono meglio di me facendo i blogger eccetera e ad oggi sono tra i miei più grandi e migliori amici quindi c'è questa coesione tra sogno e poi portarlo un po più in là che un sogno perché l'unica caratteristica che mi ha sempre delineato il carattere era quella che tanti fanno il giro del mondo in bici poi tornano e ritornano alla vita di prima se io questo non lo volevo fare quindi quella vita la che ho fatto in viaggio me la sono poi portata a casa della mia vita di tutti i giorni certo tutto ciò che ho fatto tutti i soldi che ho speso sono stati in questa strada qua figo figo no no e guarda infatti dino nel senso credo che che tu anche dopo ci possiamo trovare del del simpatico sei forse l'ospite a cui adesso porrò una domanda che si addice veramente forse a più di tutti noi al movie bar abbiamo in qualche modo inventato lo zainetto dell'inizio di un viaggio che cosa intendiamo dire tutti gli ospiti noi domandiamo che cosa ci metteresti dentro uno zainetto da affidare ad una persona che ha voglia di lanciarsi nella tua stessa avventura lavorativa in qualche modo per aiutarlo ad affrontare questo percorso in maniera ottimale e quindi appunto tu zaino viaggio ti si addice perfettamente tu nello zainetto del movie bar che potresti consegnare a qualcuno che dice ho voglia di fare del viaggiare il mio lavoro che cos'è che trovi necessario come kit di sopravvivenza da inserire all'interno appunto di questo zaino da da affidare a qualcun altro nel mio caso sono state le cose che mi hanno più aiutato durante i viaggi i libri quindi ti porti immagina quanto tempo hai in viaggio ed è un lusso che veramente ti puoi prendere poche volte e quindi la lettura libri libri di qualità cioè io ho disintegrato le pagine di terzani piuttosto di caposinski o da caroac quindi la lettura non perché fa figo ma perché ti dà sempre input è come se tu naturalmente riuscissi fare il refill del salbatoio ogni volta che tu sei viaggiando andare a vedere quello che ha visto questo oppure il concetto che ha espresso questa persona voglio capire come mai una persona è riuscita a fare un ragionamento del genere e poi ultimamente gli audiolibri che sarebbe la stessa cosa ma di fondo sta quello del farci inquinare più possibile da altre idee uno viaggia perché ovviamente ha intenzione di conoscere sì davvero davanti davanti davvero ti prepari già no tu alimenti la tua curiosità quindi bisogna portarsi sempre dietro questa benzina come se mi portassi dietro la braccia del fuoco per accendere ogni sera quindi devi avere sempre cose che ti stimoli e poi per il resto se uno va a piedi si vogliono dei gran bei scarponi e se uno va a bicicletta vi consiglio dei un gran buon equipaggiamento e poi e poi si va e se questo e se invece quindi questo zaino da da viaggio in sé diventasse appunto uno zaino di lavoro chiamiamolo qual è che sono quelle quelle pedine che tu hai visto che sono state vincenti ad esempio nel tuo caso prima dicevi ho studiato sto studiando che tante volte quello che dico io dietro una pagina instagram piena di bei paesi bei paesaggi bei tramonti e belle albe comunque c'è anche dietro un backstage abbastanza importante quindi lavorativamente tu quali sono le carte che 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 diresti e consiglieresti di mettere sul tavolo da gioco di una persona che vuole intraprendere un una strada come quella che hai intrapreso tu nel mio caso è stato un caso appunto perché io facevo il cuoco nei rifugi quindi mi andava anche bene no certo mi piace però se tu riesci ad specializzarti in una nicchia nel mio caso è viaggiare in bicicletta e in quella nicchia bravo è magari qualcosa in più rispetto a alla gente normale che non ha la possibilità di avere tutto il tempo perché la mia arma vincente era il tempo certo io avevo la possibilità di avere un sacco di tempo perché facendo le stagioni d'estate all'inverno avevo sei sette mesi all'anno quindi l'ho impiegato in pedalare quindi la prima cosa che ho imparato è trovare la nicchia di riferimento e in questa nicchia veramente impegnarsi un sacco e nel mio caso è venuto facile sia per congettura degli eventi che hanno fatto sì che la bici diventi interessante e il viaggio che da sempre degli ultimi anni viaggiare sta diventando molto molto più facile vent'anni fa quando partivi non c'era internet fare un viaggio ragazzo la misera ragione adesso apri un sito un blog di qualcuno e e trovi veramente il mondo e quindi ripeto la la particolarità deve essere cosa adesso è facile fare voler diventare un blogger di viaggio e di solito o sei veramente bravo e quindi crei contenuti di qualità e quindi devi imparare a studiare ma te lo dico per esperienza cioè amici miei che sono diventati di grandi blogger e chiaramente il viaggio di per sé non può più essere un viaggio io infatti faccio pietà con i video eccetera perché il mio lavoro è viaggiare quando viaggio cavolo che tiro fuori la videocamera vado a intervistare una tribù perché io faccio un'altra roba ma infatti di non mi confermi era un'altra domanda che avrei voluto farti e avendo unito quindi te nel senso come dici tu tu sei un viaggiatore prima di tutto che ha condiviso e condivide per lavoro quindi quello che fa ma tu riesci a goderti i tuoi viaggi cioè tu te li godi a pieno ogni tanto hai sempre aspetta che se non faccio la storia aspetta che se non faccio il post non c'è neanche un secondo della mia testa che può andare distolto da da fare una cosa così certo se io veramente tiro fuori la gopro in islanda e dico due menade è perché mi viene da condividerla perché quella condivisione mi dà ferita certo ma mai dico fermi tutti che qua perché devo farlo per certo la foto perché diventa fuori una foto bella assolutamente no se non sarei più io non sarei più non userei più l'onestà che insomma è una cosa però poi correggimi se sbaglio tanti tuoi colleghi e con colleghi appunto intendo dire chi ha fatto del viaggiare un lavoro sui social li vedo molto più concentrati sul fatto di non dimenticarsi l'hashtag perfetto e di non godersi quello che stanno facendo c'è forse anche quello che dici tu ma sai tanta gente ha fatto il percorso inverso non quindi dici cosa potrei fare sono un bravo smanettone e ci attacco dietro che scrivo il discorso del giusto e faccio le gran foto da qualche paese esotico e te lo costruisci ci sono dei 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 marketer che ti insegnano proprio meccanicamente diventare questa cosa qua ma io nasco da tutt'altro io i primi viaggi partivo con 50 rullini in pellicola di macchina fotografica perché mi piace far foto foto io mi porto via la macchina fotografica perché almeno c'è qualcosa da fare quando molto la tenda sui tramonti perché mi piace è un gioco che poi esista instagram dove quella foto li posso metterla per la foto che c'era già molti anni prima che esistessero i soli quindi sì sì perché mi piace fare sta vita qua e gli social sono un mezzo che mi molto facile grazie al cielo esiste altrimenti non lo potrei fare certo posso condividere questa cosa qua poi ho visto che condividendo molte persone sono partite molte di più di quelle che potevi immaginare certo e vogliono prendere gli stessi viaggi che faccio io però dico fa prima un attimo del training qualche altro poi vai però c'è un sacco di gente anche giovane che lo fa e credo che la gente capisca se tu veramente va in siberia perché vuoi andare in si vera d'inverno perché lo vuoi fare non per fare una performance che dopo tu la racconti perché non lo sapeva nessuno quando sono partito e lo sanno in pochi quando sono tornato bravo non vado in cerca di di gloria se mi chiamano la rally di come cosa vengo a fare a roma per dire due menade una trasmissione del pomeriggio non ho bisogno di queste cose qua non cerco la gloria solamente che poi ho trovato la fortuna immensa di poter ho trovato un tesoro io ho trovato un tesoro viaggiare mi dà una felicità strabordante e mi pare giustissimo condividere questa vena d'oro che ho trovato perché per me ce n'è l'infinito e le strade grazie al cielo sono grandi posso eh sì eh sì no no infatti e quello è figo e guarda mi fa veramente così piacere perché non è che l'abbiano snaturato i social le cose anzi in tante situazioni le hanno potenziate cioè le 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 realtà le situazioni si sono potenziate prendi appunto la tua in tanti casi però appunto hanno sovrastato quello che era la la naturalezza la veridicità delle delle cose e si nascondono appunto queste queste realtà un po montate un po cartonate e incipriate che sai una bella l'apparenza ma poi dietro mi piace sentire pure eh io le vedo e ho amici che si sono che hanno fatto questa traslazione sì e la città l'hanno perduta hanno sicuramente dei conti in banco interessanti ma se devi star lì a scrivere un post a far foto per forza e non viaggi più perché devi fare quello che è quello che ti porta i soldi allora sei figo perché ti sei inventato un qualcosa ma ma il germe iniziale era un altro guarda che l'islanda sembra fatta apposta per l'instagrammer no il geyser dietro e tu e di la gente che si mette il telefono davanti la faccia col geyser dietro perché è più importante far la foto di io col geyser che io guardavo il geyser quindi siamo oltre siamo oltre questa per me è follia cioè più importante quello che io racconto che è semplice goderlo e poi mi piace io fonda un gruppo anti influencer egocentrici e io mi scrivo ti faccio i video spot te lo giuro sono bravi sono bravi ma sì ma sì ma sì anzi ma figuriamoci l'altro non esiste una foto che non sia stata fatta da me con l'autoscatto e io vorrei la fidanzata che ti segue tutti i più forti che conosco hanno la fidanzata o sono loro i fotografi della fidanzata si vuole una squadra cioè ha un costo creare un profilo instagram decente quelle belle foto eccetera o ti porti dietro il moroso e gli dai un tot di quello che ricavi ma ci vuole un lavoro dietro allucinante mentre io ho semplicemente tanto tempo giro in bicicletta metto giù il cavalletto quando pianto la tenda e perché lo farai comunque non perché l'ho sempre fatto certo ma non sto lì viaggio da solo non sto lì con l'ansia di fare il contenuto se viene viene se non viene immagino che poi ti sarai trovato anche i miliardi di posti senza connessione perché comunque immagino che non è sempre andato in centri abitati immagino ti sarai trovato anche in posti in cui condividere o avere il segnale di internet era impossibile credo io forse sei anche sicuramente sì in siberia non esiste in tibet e poi io ho cominciato a viaggiare molti anni certo social quindi gli ultimi problemi quello di avere la rete per condividere adesso adesso guai adesso se tu non vai in un posto e non metti un post su instagram tu in quel posto io non sei mai stato questa è follia questa per me è folia io grazie al cielo sono nato nella generazione precedente dove io ho cominciato a raccontare a voce certo però però la cosa bella dino è che comunque tu come mi hai detto sei un riferimento adesso per chi ha voglia di viaggiare quindi comunque le persone sanno dove sei stato sanno dove vai sai quello che hai fatto e sanno dove puoi portarli però allo stesso tempo quello che tu stai portando come in qualche modo appunto dai appunto la conferma che uno può goderselo il viaggio e poi può raccontarlo cioè nel senso non è che deve per forza quindi essere lì pronto a raccontare ogni cosa perché se no è appunto il prossimi venturi non potranno mai sapere dove è stato ed è veramente un bel messaggio io lo vedo coi clienti che porto in giro per il mondo che sono persone che per questioni di tempo e di logistica non riescono a star via mesi quindi io gli organizzo il viaggio in modo che sia tutto pronto due settimane di ferie andiamo in patagonia oppure andiamo in atacama oppure andiamo in bolivia o in asia e persone così veramente hanno fatto sacrifici per mettervi i soldi non ho visto nessuno o mamma mia non c'è internet perché devo postare frega niente loro quando riescono a chiamare la famiglia dire boh stiamo bene e abbiamo mangiato e tutto aspetta che sono sparito arrivo 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 eccolo perfetto dicevi ci sono tecnologia stavamo parlando questi ragazzi che vengono con me fanno delle foto ogni tanto ma gliene frega assolutamente niente certo di quello che è postare a raccontare e li vedi godere delle del viaggio di di quando uno si commuove per un tramonto non lo vedrà mai dire oh che foto veramente non possiamo limare dalle emozioni per certo certo questa cosa qua veramente triste bravo mi piace dino bravo 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 e io immagino che tu il tuo cuore l'abbia spezzettato in tutti i viaggi che hai fatto diviso in mille pezzettini per lasciarne un un come diciamo appunto noi vicentini un tocchettino ovunque ma il tocchettino più grande dove l'hai lasciato se puoi o se ce l'hai o se riesci così su due piedi a dirmi qual è stato il viaggio in cui tu hai lasciato il pezzetto più grande di cuore ora sai che ci pensavo ogni tanto e il viaggio dove lascerò il cuore so già che sarà il prossimo no però fa figo dirlo il prossimo viaggio e tornando alla domanda io ho lasciato un pezzo di cuore in tutti questi paesi certo adesso che sono a casa è come se quel pezzetto di cuore la fosse irrorato venisse irrorato da sangue in base a quel periodo in cui sto pensando intensamente a quel determinato viaggio lì a volte mi viene in mente quel flash di quel bambino che mi ha aiutato in birmani piuttosto che quindi ecco in quel momento il viaggio più bello assoluto è stato la in birmania altre volte adesso vado fuori da casa quando nevica mi lamento perché fa freddo quindi bon torno a pensare alla siberia quando stavo almeno 60 quindi ho tanti posti che ricordo benissimo e molto spesso gli gli pompo sangue no quel pezzetto di cuore quindi bom mi ritrovo in colombia piuttosto che in bolivia o magari sento uno che parla di quel viaggio vedo una foto leggo un articolo e mi ricordo la ci sono stato anch'io e quindi bon ritorna su e comincia a pompare quel pezzettino di di cuore la e quindi grande perché te l'ho domandato anche perché sul tuo sito e ho visto che hai la mappa e sai è stato bellissimo vedere la quantità di pallini che comunque tu avevi giornata quello lì non è giornata per niente pensa 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 e hai un pallino sulla cartina geografica messo con un una promessa di andarci dove non ci sei ancora stato un tuo sogno da raggiungere ce l'hai ci sono ci sono ci sono ci sono quei sogni tipo voglio andare in un posto bellissimo per tracciare un percorso per portare dei clienti prossimamente oppure ci sono quei sogni impossibili dove metti quella bandierina la e ogni volta che passi davanti la mappa di sola mappa fuori dalla camera dove che passo c'è lì e lì quindi te lo te lo metti lì e poi un giorno sicuramente andrà quando volevo perché passi bene aveva una cartella sul sul desktop del computer dove tutto ciò che trovavo di interessante tutto ciò che trova veniva messo dentro come che volare mette ora poi arriverà l'occasione nel mio caso l'amorosa c'è mi ha mollato il lavoro non piaceva più borri tiri fuori l'atto pronto certo i cassetti va bene non sono favorevole di cassetti ci vogliono riempiteli di sogni poi quando è il momento ma di ferro 5 kg devastate il comodino tirate fuori quel sogno di e buttate tutto quanto era grande e andando sullo specifico se si può di noi in questo periodo ne hai un se che puoi condividere con noi una una meta il che comunque stai sognando che o che hai come cartella sul desktop del computer o è top secret o ne ho almeno due che sono estreme nel senso non le ha mai fatte nessuno ma ci sono passato troppe volte vicino e meglio che le tengo là perché magari qualcuno dice cavolo ok la pensa la pensa se non hai l'esperienza che pochissimi hanno meglio neanche arrivare a pensarlo però per esempio io quest'estate volevo andare in scozia dall'irlanda dall'islanda per la scozia poi per i motivi che sappiamo certo la scozia mi intripa un sacco vorrei andare a capo nord che mi intripa un sacco viaggetti così abbastanza on the road tranquilli in europa che mi manca perché io sono sempre stato quello che diceva lontano è meglio quindi andavo via quindi manca il vicino adesso giusto e invece cavolo quest'estate sono stato in islanda sì a quattro ore e mezzo di volo da milano e io mi sono quasi arrabbiato con me stesso dicendo ma porco cane sono andato in tibet scappando dai cinesi senza documenti rischiando l'arresto e qua vicino a casa c'era questa meraviglia la giochi perfetta per andare a perdersi in bicicletta non ci sono strane non c'è niente nessuna in mezzo ai ghiacciai meraviglioso però un bel po per l'europa bravo è vero è vero e l'italia te la sei battuta abbastanza te la sei girata un pochettino mai abbastanza mai abbastanza quest'estate ho fatto beh sono risalito da vari per tornare a casa durante il viaggio che sono trovato da sibertria e anche lì però era inverno quindi le quattro era buio certo era buio queste invece mi sono fatto dei giretti attraversato l'italia per la parte stretta così ma che toscana di miglia mamma mia mamma ti ricerchi le stradine quelle delle contraddizze giù il boschetto mamma mia c'è lago a campi vicino al lago poi salti fuori toccia una spiaggia ma di che parliamo bello è vero è vero è vero è verissimo infatti dino il il viaggio più lungo e qual è stato che hai fatto ma guarda e io ho sempre fatto viaggi da 6 7 8 mesi perché dovevo tornare certo a stare polente quest'ultimo viaggio lungo nel 2018 volevo attraversare la siberia d'inverno di caso che non muoio per strada bene e dovevo tornare per gestire un rifugio ok alla fine di questo tragitto di quasi due mesi in siberia meno 60 detto bene adesso prendo l'aereo da qua gestisco il rifugio oppse sono state delle delle incomprensioni con la società appaltatrice detto vabbè non ho più un rifugio da gestire da questo punto non ho più un estate da dover tornare a casa e torno a casa in bici quindi ci ho messo 11 mesi perché da dalla siberia in bicicletta quindi di solito quello lì è stato un anno come il viaggio più lungo di solito 8 mesi 6 mesi così ma ma se se io ti chiedessi per te il significato della parola tenacia cioè tu come la vivi c'è 11 mesi cazzarola c'è nel senso c'è a casa dovevi tornare devi tornare quindi il tuo obiettivo te lo poni e tu com'è che fai ad andare avanti anche immagino avrai dei momenti difficili e fisicamente emotivamente e quant'altro cioè da come e spiegami se stessi facendo qualcosa che non mi piace torno a casa seduta stante certo ma chi chi me lo fa fare tieni duro che che finirà torno a casa non ha senso quindi molte volte la tenacia e lo sostituisco con o fai così o fai così tipo se sei in siberia se sei in tibet o se sei in altre condizioni particolari non è alternativa quindi ti devi andare a certo certo rimane lì quindi per sopravvivere deve andare avanti questa tenaccia è istinto di sopravvivenza mentre poi quando in situazioni così estreme non è tenaccia che ti fa attraversare il deserto in pekista è la voglia di provare attraversare un deserto e c'è ragione è brutto è un casino fa caldo non c'è acqua sei stanco morto perdi dieci chili per attraversare un deserto ma lo fai perché ti piace lo fai perché l'hai scelto lo fai perché in esperienza incredibile vedere un'alba in mezzo a un deserto dove non ci va nessuno e quindi non è tenaccia è passione lo faccio perché mi piace bravo non mi sento tenace è uno che va a lavorare il sabato che deve pagare un mutuo che ha tre figli deve pagarli l'università cioè quella è una persona tenace nella vita normale c'è bisogno di tenacia per venirne fuori sempre oppure anche in questo periodo c'è gli imprenditori un sacco di gente che per quella lì è tenaccia nel mio caso io sto giocando io sto vivendo un sogno quindi mi sento quasi un baciato della fortuna quindi non è tenaccia è proprio passione sto facendo qualcosa che mi piace però che possiamo che possiamo intanto bellissimo è veramente bellissimo bellissimo ragionamento Dino veramente veramente bello e che però un pochettino può essere spalmato su tutte le persone cioè nel senso come dicevamo all'inizio di questa chiacchierata nel momento in cui tu hai qualcosa da raggiungere hai un obiettivo che poi sia più o meno divertente più o meno inerente o no ad un lavoro più o meno faticoso fisicamente emotivamente e se è una cosa che tu vuoi se è una cosa che ti piace se è una cosa che ti stimola cioè fallo bisogna farlo non ci sono motivi non ci sono scuse per non farlo credo che alla fine valga un pochettino per tutto questo no? sì sì bisogna essere fortunati o consapevoli certo di cosa ti piace fare nel mio caso sono stato fortunato perché ci sono caduto addosso però c'è gente che ha 15 anni decide di andare a studiare medicina quindi va in una città e diventerà un medico è una persona con tenacia con passione che fa qualcosa nel mio caso e magari nel caso di molte altre persone che non hanno avuto la fortuna di essere indirizzate perché la vita le ha spinte verso ma magari si trovano un po' disperse nel marasma del vivere se uno ha un buon orecchio, una capacità di ascolto e c'è una curiosità veramente casca dentro nella propria strada c'è la linea di migliore incidenza fare le cose che ti vengono meglio, naturali e che in più godi come un pazzo a farle sicuramente ci sono per tutti poi grazie ai social, come dicevo prima, se uno piace fare i centrini veramente può aprire un canale dove insegna a fare centrini e può veramente avere un fee che gli permette di vivere perché ci credi, ti piace e in quella roba lì sei tra i migliori perché grazie al cielo almeno i social smascherano i ciarlatani quindi devi essere sicuramente tra i migliori per poter insomma venire a galla in questo mondo certo però si può, fatelo bravo, 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 bravo Dino intanto come sempre a me quando mi trovo a fare cose belle, discorsi interessanti mi sfugge il tempo e ti chiedo, ti faccio entrare un pochettino, ti incanalo nella parte finale di quella che è la chiacchierata al Movie Bar con un paio di domande che, un pochettino caratteristiche del nostro format la prima è, hai mai pensato di mollare? ti è mai capitato? ma ti ripeto la mia condizione faceva sì che non potevo mollare cioè in Siberia ci basta torno indietro o in altre condizioni quando la parte è dura sai che non puoi dire boh alibandus, fermo, spengo cioè nelle condizioni lì quando tu ti trovi a vivere si chiama avventura rispetto a un viaggio perché hai delle clausole molto più strette si chiama avventura ma non sai come potrebbe andare a finire scali una montagna, sei un bravissimo alpinista ma è un'avventura perché non sai mai se si stacca un chiodo non sai mai se vengi una valanga devi essere preparato e pronto quindi non è che dice un alpinista boh è freddo torno indietro e anche io quando ero in Siberia dicevo no è freddo torno indietro io ero preparato, consapevole se sei in Bolivia attraversare un deserto 5.000 metri se sei preparato, sei consapevole, sei impagliato quindi in questo caso qua dico che la preparazione ha sempre fatto una grandissima differenza su quello che facevo e cosa non facevo certo, certo grazie, grazie, grazie un sacco e Dino un'altra domandina anche qui sempre perché io so che cosa è successo quello che stai facendo adesso e quindi proprio ti chiedo il Dino di adesso giovedì 17 dicembre anche se la puntata poi andrà online in un altro momento ma io con Dino sto chiacchierando quest'oggi potesse tornarsi indietro di una decina d'anni più o meno e incontrare il Dino un pochettino più giovane in un momento diverso della sua vita conoscendo tutto il percorso che è stato fatto fino ad adesso che cosa si sentirebbe di dirgli? ma credo che chi ha trovato la strada suggerirebbe sempre al suo giovane di cominciare prima io avrei dovuto credere di più in quello che stavo facendo perché ho avuto un feedback da fuori non ero io che dicevo beh però sta roba potrebbe essere quindi direi comincia prima e non sta a menarla che in dialetto vuol dire non sta a perdere tempo non sta a rendere pazzo a fare delle cose che non sono nelle tue corde a fare dei lavori che sai che non ti porteranno da nessuna parte direi focus in questa roba qua che ti piace e butta tutto lì quindi se qualcuno è giovane e ha in mente di fare qualcosa ovviamente deve essere sentiente che la cosa può essere fattibile certo e bisogna buttarsi tutto anima e corpo energie perché potrei aver cominciato sicuramente dieci anni fa a portare gente in giro quindi è andato benissimo così esatto esatto non sarei andato a fare determinati viaggi eccetera per il momento guarda ti dico la verità se mi rivedo in bicicletta in Laos direi solo scolta cambia bici una bici migliore perché adesso fa tutto quello che ma che era la famosa prima bici Dino quindi no è il primo cancello è il primo cancello ma adesso toglimi la curiosità cioè che bici era? ma era una bici tedesca da donna due tagli più no ma davvero quindi mi sono scherzato delle mani non ho più potuto usare due dita per mano poi il mio amico mi fa una sella da corsa che vai più forte porto ancora purtroppo le cicatrici di quella bastarda sella da corsa che avevo ma veramente avevo due volte al giorno a volte anche ruota davanti ruota dentro nello stesso istante non sapevo un'ostra che avevo invece adesso ma quanti chilometri hai fatto? quanti chilometri hai fatto? ho fatto 8.000 chilometri in Asia non sapevo neanche penso di aver tolto le rotelle la settimana prima di partire che non sapevo assolutamente niente non c'era grande adesso tu apri internet scrivi miglior bicicletta per viaggiare boom decine di siti oppure chiami meteo però al tempo trovare il copertone giusto voleva dire bucare 50-60 volte poi attentativi dici ah cavolo questo copertone qua vabbè ma quindi un pochettino parafrasando quello che sei tu come si dice tante volte che ne so io sono un videomaker che ti dicono la differenza non la fa l'attrezzatura che usi ma chi la usa l'attrezzatura quindi nel senso ragazzi nel senso non è che bisogna avere la bici di 55.000 rapporti e spararazzi in amianto e compagnia cioè basta avere la voglia basta essere sapere che cosa si vuole fare e la si fa con qualsiasi cosa cioè ne sei la prova punto non si può dire altro però come ti dicevo poco anzi se io trovassi il mio io certo gli dico vada ascolta almeno la sella l'ho lasciata nel Mekong proprio da io non sono uno che butta in giro roba assolutamente ma quella sella là ha fatto un bel volo è grande e vabbè quando ci vuole ci vuole quando ci vuole ci vuole adesso con la tecnologia e con la conoscenza eh sì eh sì eh sì Dino beh guarda che figata che figata Dino beh allora guarda manca una domanda ed è la domanda stupida del movie bar quindi io prima eh di di fare il gran casino finale e ti chiudo e ti ringrazio in modo serio mantenendo appunto il tutto eh abbastanza compito ordinato e professionale e è veramente è stata una figata una chiacchierata che a me è piaciuta un sacco e ovviamente guarda un anno 2020 ha messo a voglia di viaggiare a chiunque penso anche a chi non aveva voglia di viaggiare e quindi puoi parlare con te figurati mi viene quasi da piangere ma eh si tornerà a viaggiare e quindi e quindi sono veramente contento di di avere anche dato una sbirciata a tutti i tuoi social sei stato di ispirazione e spero che tu possa esserlo attraverso anche questo video attraverso i tuoi social il tuo sito che lasciamo tutto quanto sotto in descrizione di ispirazione per qualcun altro sia per viaggiare ma anche proprio nella vita in in sé quindi grazie infinite di aver accettato il nostro invito e sono stato contentissimo di poter di poter chiacchierare con te questi questi 40 minuti e ho provato a fare il bravo ti ho un po' indorato la pillola ma adesso mi tocca porti la domanda stupida del movie bar una domanda stupida dove ti chiedo gentilmente di potermi dare una risposta sensata e quindi una risposta che motivata in modo serio è un'impresa eh lo so l'ho già letta ti va abbastanza bene è su misura per te caro Dino preferiresti tagliarti le dita con la carta ogni volta che giri una pagina di un libro o morderti la lingua ogni volta che mangi beh questa è no mangiare preferisco il libro preferisco il libro anche perché ultimamente purtroppo uso reader quindi volevo questa risposta è sensata ci sta è un po' paraculata ma ci sta dai nel senso ci sta e ci sta assolutamente e quindi promosso promosso a pieni voti Dino assolutamente Dino grazie veramente ancora grazie 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 infinite e beh dai buon viaggio spero il prima possibile per te e noi di movie ti seguiremo ovunque febbraio siamo in patagonia dai bene allora noi per ora con i social sai mai che un giorno il team movie viene in viaggio con Dino e sarebbe veramente una figata chiamatemi prima che vi dico che sei la usare ottimo niente bici cancello allora va bene giusto Dino grazie grazie infinite e amici del movie bar noi ci vediamo in una prossima puntata alla prossima